Ora si registrerà la conferenza. Dov'aiuto. Non c'è più la finestra della condivisione. Farò lo schermo intero. Riuscite tutti a sentirmi e a vedere la presentazione? Molto bene. Come detto, io oggi presenterò il lavoro di tesi che ho fatto con il professor Barcaro all'IPCF di Pisa, anche se purtroppo sono riuscito a venire poche volte in presenza, vista la situazione pandemia. Quindi è stato fatto più che altro a distanza questo lavoro, però il lavoro si intitola Interwoven Chemical Ordering and Structural Effect in the Exploration of Binary Alloys at the Nanoscale, la Computational Study. Quindi quello che si vuole fare è studiare i sistemi di leghe binarie alla nanoscala. Prima di cominciare a parlare di questi sistemi vorrei fare una piccola riflessione riguardo al fatto che noi come umanità conosciamo i metalli ormai da tantissimi anni. La scoperta del rame ad esempio risale al 9000 a.C. O la scoperta della primaria lega, il bronzo, a 3500 a.C. Quindi ad esempio il rame lo conosciamo da 11.000 anni, ma la ricerca su questi tipi di materiali è ancora molto attiva. E così siamo passati dal produrre artifatti come questo, che è l'ascia di Ötzi, la mummia trovata nelle Alpi vicino Bolzano, che tra le altre cose è costruita con rame e proveniente pare dalla Toscana, da zona di Piombino. E siamo passati a sistemi molto molto più complicati come questo rappresentato in figura, dove sono presenti delle nanoparticelle di argento, se non sbaglio, viste al SEM. In particolare le nanoparticelle sono sistemi molto interessanti perché metalli e leghe presentano quando sono alla nanoscala delle proprietà che non hanno quando sono nel bulk. E trovano applicazioni nel campo dell'ottica, ad esempio con differenze risposte ottiche a seconda della forma del size della nanoparticella. Trovano applicazioni in catalisi, come catalizzatori in reazioni chimiche, per esempio nel trattamento dei gas di scarico, e trovano applicazioni anche in medicina, come per esempio nelle terapie anticancro. Per fare un design di questi sistemi, in particolare mi riferisco agli alloy, di cui siamo interessati oggi, per conoscere le proprietà chimico-fisiche di questi sistemi è importante conoscere la geometria e l'ordinamento chimico. Quindi abbiamo bisogno di determinarli e possiamo farlo sperimentalmente, ma questo è un compito molto difficile sia per le dimensioni di questi sistemi, sia per il fatto che è difficile avere informazioni 3D sull'ordinamento chimico di questi sistemi attraverso metodi sperimentali, e anche perché sperimentalmente, ad esempio, è molto difficile studiare particelle in fase gassosa. Quindi un aiuto ce lo danno i metodi teorici o computazionali, che sono molto più semplici, se vogliamo, però dobbiamo sempre ricordarci che l'accuratezza di questi sistemi dipende dal modello che scegliamo. Quindi per fare un punto della situazione, lo scopo della tesi è stato quello di sviluppare un nuovo algoritmo per l'ottimizzazione dell'ordinamento chimico nelle nanoleghe, e l'applicazione di questo algoritmo in un protocollo computazionale più ampio, che ci permette di studiare geometria e ordinamento chimico di due nanoleghe, particolarmente già studiate in precedenza per testare il nostro metodo, che sono il palladio platino, che è una lega con tendenza al mixing, e l'argento rame, che è una lega con tendenza alla segregazione. Il tutto ad un size di circa 500 atomi per cluster. Quindi quando vogliamo modellare un sistema, dobbiamo scegliere innanzitutto a che livello vogliamo modellarlo. Quindi immaginando una ipotetica torre, possiamo avere al top della torre, nel punto più alto, possiamo pensare ai metodi da principi primi, cioè quelli basati su meccanica quantistica. In pratica quello che facciamo è avere un sistema completo, una descrizione che comprende nuclei e elettroni, e andare a modellare le interazioni fra tutti i nuclei e tutti gli elettroni. In questo modo otteniamo dei modelli molto accurati, con una risoluzione molto alta, però allo stesso tempo con un costo computazionale molto elevato. Quindi ci servono dei super computer, e possiamo andare a simulare dei sistemi molto piccoli, fino al centinaio di atomi. Possiamo scendere dalla torre, andare verso risoluzioni minori, e considerare per esempio gli atomi come un'unica entità, dimenticarci del fatto che è composto da elettroni e nuclei, ma considerare un'unica entità, l'atomo, e andare quindi a modellare le interazioni tramite dei potenziali interatomici. Questi potenziali interatomici naturalmente devono essere accurati, ci sono diverse scelte che possiamo fare, e in generale per migliorare l'accuratezza di questi potenziali interatomici, quello che si fa è fittarli su calcoli da principi primi. E si può continuare a scegliere su questa scala, fino ad arrivare a cross-grade models, dove invece dei singoli atomi si vanno a considerare le interazioni fra gruppi di atomi, e poi giù fino al continuo, avendo sempre un costo computazionale meno elevato, e quindi avendo la possibilità di modellare i sistemi sempre più grandi. In questa tesi ci siamo mossi più che altro nel regime atomistico, abbiamo utilizzato un potenziale interatomico, fittato con calcoli da principi primi, però come vedrete, diciamo che ci siamo mossi anche un po' nel regime del coarse-grain, e questo sarà chiaro un po' più avanti. Quindi, avendo finito il nostro potenziale interatomico, ci troviamo con una potential energy surface, una superficie di energia potenziale, che chiameremo PES, che è fatta più o meno, diciamo, molto semplicisticamente in questo modo. In realtà è una superficie che dipende, cioè l'energia dipende dalle coordinate atomiche, e quindi è una superficie 3N dimensionale, quindi impossibile da visualizzare, però facciamo finta che sia una superficie bidimensionale, quello che dobbiamo fare è andare a studiare i minimi di questa superficie. I minimi perché i minimi ci danno informazioni su quali siano le strutture geometriche e i pattern di chemical ordering, che siano i più stabili e quindi i più probabili. Quindi non è molto diverso dal... Ho messo qui la foto dell'antro del Corchia, che è una grotta nelle Alpi Apuane, vicino Pisa, che non è molto diverso da esplorare una grotta e andare a cercare tutti gli anfratti. Questo è un compito molto difficile e ci servono degli algoritmi intelligenti per farlo. E quello che abbiamo utilizzato noi è il Basin Hopping, che è molto semplice. Si basa su questo diagramma di flusso che potete vedere. Quindi si parte da una configurazione di partenza, che può essere una configurazione random oppure un seed. si va a fare una mossa Monte Carlo, e quindi una mossa random, si va a perturbare in qualche modo il nostro cluster, e questo cluster perturbato viene rilassato per raggiungere il minimo dell'energia più vicino, e viene calcolata la differenza di energia che c'è tra questo nuovo cluster e il cluster di partenza. E si applica il criterio di Metropolis. Il criterio di Metropolis si basa su questi due casi. Se la differenza di energia fra le due configurazioni è minore di zero, la mossa Monte Carlo è sempre accettata, quindi si prende la nuova configurazione e si ripete il ciclo andando a effettuare una nuova mossa Monte Carlo. Se l'energia è maggiore di zero, c'è una possibilità di accettare la mossa che è pari all'esponenziale di meno ΔE su KT, dove K è la costante di Boltzmann e T è un parametro della temperatura di esplorazione che settiamo prima dell'esplorazione. Naturalmente maggiore è ΔE, minore è la probabilità che la mossa sia accettata. Se la mossa è rifiutata, si recupera la configurazione di partenza e si esegue un'altra mossa Monte Carlo. Quindi, per prima cosa, noi abbiamo utilizzato questo algoritmo per andare ad accumulare un grande database di strutture. Quindi, lo abbiamo ripetuto molte volte. Ah, ho dimenticato di dire che la condizione di terminazione di solito è sul numero di cicli, perché noi non siamo interessati a trovare il minimo assoluto, ma siamo interessati ad accumulare più strutture possibili. Quindi noi facevamo ad esempio 10.000 cicli e trovavamo un certo numero di strutture. Abbiamo ripetuto questi basin hopping molte volte per cercare le geometrie più stabili inizialmente e dall'analisi visuale di queste strutture a bassa simmetria che trovavamo durante questi cicli di basin hopping siamo andati a costruire e a riconoscere dei pattern e a costruire delle strutture ad alta simmetria. Quindi, diciamo che prima abbiamo trovato delle strutture classiche, possiamo dire fra parentesi, che sono le strutture cristalline e strutture non cristalline. strutture cristalline è chiaro che si possono formare, si può pensare a un pezzo metallico di balk e a semplicemente estrarre una nanoparticella con una certa forma e strutture cristalline sono un po' più peculiari e queste vengono fuori perché se si va a considerare l'energia di binding di un cluster, questa ha dei termini che vengono da un contributo di volume e dei termini che arrivano da un contributo di superficie che sono poi dovuti poi alle facce delle superfici, agli edge e ai vertici. Quando n è molto grande, naturalmente il contributo di volume domina e si hanno strutture cristalline. Quando n è piccolo, si può avere la competizione fra contributo di volume e contributo di superficie, si possono creare strutture non cristalline che vanno ad ottimizzare il rapporto superficie-volume. Queste strutture non cristalline sono decaedri e icosaedri. Queste si trovano molto in cluster monotomici, in cluster biatomici vengono stabilizzate dal fatto di avere una lega anche altri tipi di strutture, che sono le strutture ibride. Noi ne abbiamo trovate, abbiamo identificato questi tre dalle nostre ricerche, che sono l'icosaedro antimachei, il decaedro ibrido e il tetraedro di liri. Sono strutture molto simili, perché presentano tutte e tre un core ben preciso. Qui abbiamo un icosaedro, qui un decaedro e qui un tetraedro, che è un core FCC. Sopra questo core cresce un overlayer di atomi, creando degli stacking fold sulle facce, e poi le facce si uniscono tra loro, lungo gli edge del core, e gli spigoli del core diventano degli assi localmente C5. Un segno di ibridazione, dell'avvenuta ibridizzazione delle strutture, è la formazione di queste faccette quadrate, che potete vedere qui, nelle vicinanze dell'asse C5. Naturalmente noi quindi abbiamo accumulato un database di strutture ad alta simmetria, però siamo interessati a costruire un algoritmo che possa studiare l'ordinamento chimico, anche in strutture a bassa simmetria. E qui ne ho riportate alcune presenti nel database. Abbiamo due strutture cristalline, con qualche stacking fold che è segnalato, due strutture non cristalline, dove invece la stella va a segnalare l'asse C5, e due strutture ibride, dove potete vedere l'asse C5 e le faccette quadrate che segnalano l'ibridizzazione. Quindi, una volta accumulato il database di strutture, con diverse geometrie, vogliamo andare ad ottimizzare il chemical ordering. Pattern di chemical ordering che possiamo trovare sono pattern di segregazione e pattern di mixing. Pattern di segregazione che possono essere di tipo core shell, oppure di tipo yanus, e pattern di mixing che possono essere ordinati or random, oppure pattern multishell. Un parametro importante che è l'energia in eccesso, e questa energia in eccesso in pratica ci dice quanto la struttura beneficia dell'allowing. Se questa energia in eccesso è minore di zero, significa che la struttura è stabilizzata dall'allowing, e quindi si ha una tendenza al mixing. Se questa energia è maggiore di zero, significa che la segregazione è favorita. Come studiare il chemical ordering? Allora, non è una cosa semplice, data una struttura e una certa composizione, perché il numero di omotopi, cioè il numero di modi in cui si possono andare a distribuire gli atomi all'interno della struttura, è molto elevato. Quindi abbiamo bisogno di una semplificazione del problema. La strategia che abbiamo utilizzato è quella dell'orbital basin hopping, in cui quello che si fa è andare a dividere il cluster in gruppi, seguendo un certo criterio. Quindi si può tradurre il cluster in una stringa. In questa stringa ogni posizione rappresenta un gruppo, e questi gruppi vengono chiamati orbite, e lo zero e l'uno segnalano il tipo di atomo che è presente all'interno di quell'orbita. Per esempio, se siamo nel sistema palladio-platino, per questo cluster, l'orbita 10 sono tutti gli atomi verdi, e l'uno sta a significare che tutti gli atomi verdi sono atomi di platino. Quindi, una volta costruita questa stringa, possiamo utilizzarla per fare un basin hopping. E come facciamo? Partiamo dal cluster, stringa, e la mossa Monte Carlo, tiriamo la leva, e andiamo a invertire degli zero con degli uno, mantenendo costante la concentrazione, la composizione del cluster. Otteniamo così una nuova stringa, e da qui possiamo risalire al nuovo cluster, e calcolare le energie. In questo senso andiamo a fare un'operazione di coarse grain, per andare a fare la mossa Monte Carlo, però poi le energie vengono di nuovo calcolate a livello atomico. Abbiamo utilizzato questa strategia all'interno dell'algoritmo che abbiamo sviluppato, e l'algoritmo è descritto da questo diagramma di flusso. Si parte dalla selezione della struttura, quindi si prende il nostro database, con strutture ad alta e bassa simmetria, e si prende una struttura. C'è una fase di preprocessing, e poi si va alla selezione del descrittore. Il descrittore è quello che ci dice come costruire le orbite. Quindi possiamo scegliere un descrittore di tipo energetico, che costruirà le orbite basandosi sull'energia dei siti atomici del nostro cluster, e quindi questa è strettamente collegata alla coordinazione degli atomi. Quindi separerà gli atomi di superficie dagli atomi di bulk. Gli atomi di superficie saranno poi a loro volta divisi in atomi sulle faccette ad alta coordinazione e bassa coordinazione, gli atomi sugli spigoli e gli atomi sui vertici, mentre gli atomi di bulk saranno raggruppati in un'unica maxi orbita, e quindi avremo bisogno di un descrittore geometrico poi per andare a dividere lì a loro volta. Oppure, quello che possiamo fare è selezionare un descrittore sia puramente geometrico e andare a costruire le orbite utilizzando questo descrittore senza fare distinzione fra superficie e bulk. E poi, una volta costruite le orbite, la stringa si può procedere all'ottimizzazione dei basi nopping. I descrittori geometrici che abbiamo implementato sono fondamentalmente tre. La simmetria sferica, cioè la distanza da un certo atomo. Simmetria cilindrica, cioè andando a considerare la distanza da un certo asse. o layer by layer, cioè andando a considerare la coordinata z dopo che abbiamo definito un certo asse. E questo è proprio... Quindi ci serve definire un atomo centrale e un'asse z e è proprio quello che accade nelle fasi di preprocessing. Cioè il cluster viene prima centrato sull'atomo centrale e poi, a seconda della scelta dell'utente, viene orientato con l'asse z lungo un'asse c3, un'asse di simmetria c3, c4 o c5, come presentato in questi esempi. Quindi adesso vi mostro qualche risultato del nostro algoritmo applicato alle strutture che abbiamo trovato. Questa è una struttura cristallina, un trucco ottaedro a 711 atomi. Potete vedere la curva della mixing energy in funzione della concentrazione di palladio. E queste sono le curve ottenute con i vari criteri per costruire le orbite. Potete vedere innanzitutto che la mixing energy è sempre negativa, quindi è una lega che ha tendenza al mixing, come ci aspettavamo, e raggiunge valori di intorno ai meno 90 eV nel minimo. Quindi valori molto profondi dell'energia. Potete anche vedere che il criterio che descrive meglio la situazione è quello puramente oceometrico della simmetria sferica. E quello che si può fare è anche vedere i pattern di chemical ordering per diverse composizioni. Qui abbiamo un cluster che è ricco in platino e potete vedere che il palladio preferisce segregare in superficie, in particolare nei siti a bassa coordinazione. Andando su con la concentrazione di palladio, questo va ad occupare maggiormente la superficie e comincia a essere presente anche in qualche punto del bulk. e il punto del minimo corrisponde a una configurazione che è perfettamente multi-shell, con il palladio sulla superficie, il platino che va nello strato sottosuperficiale e poi si alternano layer di palladio e layer di platino. Andando avanti con la concentrazione di palladio, il platino va a segregare negli strati sottosuperficiali. Qui potete vedere che è stato tolto lo strato più esterno di palladio, che era interamente di palladio e ha esposto lo strato sottosuperficiale. Si può vedere la segregazione del platino in questo layer. Un altro esempio per l'altro tipo di lega che abbiamo studiato è per l'argento rame, un icosedro antimacheia, 509 atomi. Potete vedere che qui la forma della mixing energy è completamente diversa. Innanzitutto i valori che raggiunge al minimo sono intorno ai meno 30 elettron volt, mentre prima eravamo a meno 90. Quindi c'è una bella differenza. Inoltre questo era il cluster che raggiungeva il minimo assoluto della mixing energy fra tutte le geometrie che consideravamo. Potete anche vedere che questa mixing energy tende ad essere positiva per alte concentrazioni di argento, che è anche una cosa che ci aspettavamo perché questa lega ha delle tendenze alla segregazione. Qui il criterio che sembra lavorare meglio è quello puramente geometrico con simmetria cilindrica. E se andiamo a osservare i pattern di chemical ordering, possiamo vedere che l'argento in azzurro va a segregare sulla superficie per cluster ricchi in rame. Poi il minimo è dato da una configurazione che è perfettamente core shell, anche questo come ci aspettavamo. Andando su quella concentrazione di argento si ha la formazione di questo core di rame che va a rompere la simmetria sferica, che è un altro fenomeno studiato. Qui va a romperla in favore della simmetria cilindrica, anche se sperimentalmente è stato osservato che si osserva più che altro uno shift del core verso la superficie. Ma anche questo non è previsto che sia il minimo, cioè con il minimo della mixing energy, ma è comunque possibile vedere un pattern del genere dal nostro algoritmo. Quindi si hanno senza dubbio dei constrain sulle orbite che non ci permettono di raggiungere un'accuratezza perfetta, però la vera qualità del nostro algoritmo è la sua velocità. E qui vi presento il confronto delle performance del nostro algoritmo confrontate con un basin hopping di soli scambi. Il basin hopping di soli scambi è un basin hopping in cui la mossa Monte Carlo è quella di prendere due atomi di due differenti specie e scambiarli. Prendere due atomi a caso e scambiarli semplicemente. Questo porta a un'ottimizzazione del chemical ordering che è molto più accurata di quella del nostro algoritmo perché non c'è nessun constrain sulle orbite, però è anche molto più lenta, come potete vedere, da questi grafici. Questi grafici riportano infatti l'energia assoluta trovata dall'algoritmo in funzione del numero di mosse Monte Carlo che sono servite per raggiungere quell'energia. Queste tre linee sono i basin hopping di soli scambi e le altre linee più in basso sono quelle del nostro algoritmo. Anche qui potete vedere la stessa cosa. Potete vedere che il nostro algoritmo va quasi in verticale a raggiungere la regione del minimo. Quindi con un numero di mosse Monte Carlo molto molto minore rispetto al numero di mosse Monte Carlo di cui ha bisogno il basin hopping di soli scambi. Per concludere, il nostro algoritmo dà delle previsioni, una descrizione qualitativamente eccellente dei pattern di chemical ordering, anche se non quantitativamente esatta, però la sua qualità maggiore è quella di presentare una velocità nei calcoli computazionali molto molto maggiore rispetto a quella di altri approcci che sono largamente utilizzati. degli sviluppi futuri a cui possiamo pensare sono la possibilità di implementare il codice in un algoritmo che ottimizzi sia strutture che ordinamento chimico allo stesso tempo, perché come detto noi io adesso abbiamo ottimizzato prima le strutture e poi in un secondo momento ordinamento chimico, ma il nostro codice funziona per strutture sia ad alta simmetria sia a bassa simmetria, quindi potrebbero lavorare in parallelo con le strutture a bassa simmetria, oppure anche la possibilità di andare a sviluppare, di estendere l'algoritmo per studiare leghe che abbiano tre elementi. Sarebbe sufficiente andare a considerare delle stringhe che oltre a 0 e 1 abbiano anche dei due. I messaggi dei take home messages che uno si può portare a casa da questa presentazione, penso che siano che gli algoritmi, gli metodi computazionali possono essere molto utili, possono sicuramente andare a avere una funzione esplicativa quando si tratta di andare a cercare di spiegare delle osservazioni sperimentali, ma la loro potenza risiede anche nella parte predittiva, però tenendo sempre bene a mente che l'accuratezza dipende dal modello scelto. Grazie per la vostra attenzione. Perfetto, grazie mille Davide, sei stato perfettamente nei tempi, quindi come Davide Fioravanti ha abbandonato? Il nostro speaker ha abbandonato, con un colpo di scena ha abbandonato il seminario, forse ha cliccato su... invece che interrompi condivisione, infatti è tornato. Davide mi senti? Scusate, ho cliccato invece di... sono uscito invece che... Avevamo capito, grazie. Allora, quindi diciamo adesso possiamo aprire la discussione se ci sono domande, se ci sono curiosità. Credo prima di tutto Giovanni che tu debba interrompere la registrazione. Hai perfettamente ragione Marinella, grazie mille. Allora interrompo la registrazione.